Cerchiamo di capire dove ci trova questo bel tesoro, dove ti trovi tesoro? Tesoro sono a casa, siiii eccolo 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 Ciao amici e benvenuti in questo nuovo fantastico episodio del Griefing Vanilla Siamo sempre qui nella serie del Griefing Vanilla che continua con il vostro supporto Perché appena raggiungiamo i 5000 mi piace esce un altro bellissimo Griefing in questa vanilla spettacolare Dobbiamo migliorare questa base perché fa veramente schifo sinceramente Prima o poi dobbiamo migliorarla, dobbiamo migliorare anche il mob spawner E dobbiamo cercare di costruire una nuova base, non lo so vorrei tanto costruire una nuova base, una nuova casetta Sarebbe una cosa molto molto bella Quindi se questa serie continuerà cercheremo di costruire una nuova base qui da qualche parte Se ce la facciamo Adesso noi abbiamo un nuovo tesoro, oggi in questo episodio da trovare Infatti nel precedente episodio abbiamo trovato un tesoro nascosto vicino a un'isola nel deserto Wow è stato un video bellissimo Infatti abbiamo usato una delle mappe del tesoro degli iscritti e abbiamo trovato una bella No scusate, la mappa del tesoro è vero il tesoro l'abbiamo trovato grazie a una mappa del tesoro che avevamo trovato in una nave abbandonata Oggi cercheremo di trovare invece il tesoro nascosto dell'iscritto Questa mappa ce l'aveva regalato un iscritto e il tesoro dobbiamo andarlo a trovare Perché così riusciamo a fare un bel video di esplorazione Poi vediamo un po' se riusciamo a fare una bella griffata come nel precedente episodio Che nel precedente episodio avevamo trovato un bellissimo coso da griffare Oh aiuto, au, au, aiuto, 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 aiuto Avevamo trovato una bella base da griffare grazie al nostro iscritto Ahmed Grazie a lui abbiamo griffato una base bellissima E avevo trovato anche una bella cesta nascosta È stato veramente un video pazzesco Ma la smettiamo di bruciare, non capisco quanto devo bruciare Ermacchino quanto deve bruciare prima di capire che sta bruciando, non lo so Adesso cerchiamo di fare un po' di ordine in questo inventario, in questa base Abbiamo troppa roba sinceramente Allora facciamo una cosa Abbiamo un shulker box che ci aveva dato un iscritto E questo shulker box cerchiamo di riempirlo un po' di cose Con un po' di roba Perché abbiamo troppa roba con noi Ma abbiamo anche troppa roba nell'inventario Quindi facciamo che svuotiamo un po' E ci prendiamo un po' di cose E ce le portiamo a dietro Perfetto Anche questi smeraldi me li prendo tutti perché sono pochissimi Guardate quanto sono splendenti Sono veramente splendenti E poi cos'altro ci possiamo prendere Vabbè questa roba qua la lasciamo lì dietro che tanto non ci serve E allora abbiamo Oh abbiamo qua una mela giusto Facciamo una bella mela d'oro Che tanto abbiamo tantissimi lingotti Fantastico Guardate qua Abbiamo sei mele d'oro succulenti La mela d'oro La nuova skin della mela d'oro È una cosa bellissima Infatti hanno fatto bene a cambiare le texture pack di molte cose Perché erano cose molto molto vecchie Adesso questa cesta Questa cosa qua la riempiamo Con tutte le nostre cose preziose E ce la portiamo a dietro Perfetto Non possiamo mettere un shulker box dentro un shulker box Questa cosa non la possiamo fare Uh abbiamo confuso le mappe Ok questa è la mappa del tesoro che abbiamo usato nel precedente episodio Oggi in questo video useremo questa e cercheremo di trovare un nuovo tesoro bellissimo L'arco di Guglielmo lo teniamo con noi perché è un arco potentissimo che possiamo usare E poi cos'altro possiamo usare Cioè cos'altro possiamo mettere qui dentro Possiamo mettere questo La strength 2 non lo so Tanto non la usiamo Quindi la mettiamo là dentro Perfetto Abbiamo messo proprio tutto Adesso questo shulker box ce lo portiamo a dietro E sarà il nostro bel shulker box Bellissimo Che poi cercheremo di colorare E far diventare rosso Perché è il nostro colore preferito Cos'altro abbiamo Che possiamo mettere Vabbè questa roba qua la possiamo anche tenere qui dentro Tanto non ci serve a niente E possiamo adesso andare via Subito da questa base Cerchiamo di trovare una bella Un bel tesoro nascosto perché è l'obiettivo di questo video E poi vediamo un po' se riusciamo a trovare una bella base da griffare Se vorreste vedere altri episodi della griffing vanilla Dobbiamo raggiungere 5000 mi piace Perché questa serie continua solo con il vostro supporto E iscrivetevi al canale premendo il tasto se iscriviti Così non vi perdete questi bellissimi video Non vi perdete questa fantastica serie Finalmente il puntino si sta cominciando a spostare Oh Alleluia Voi non sapete quanto ho camminato Ma che cacchio C'è voluto veramente tantissimo tempo Per fortuna che avevo salvato le coordinate del precedente episodio Ed ero ritornato quasi A dove avevo lasciato le mie ricerche E quindi abbiamo ritrovato subito il punto E la cosa si è cominciata a spostare Vuol dire che eravamo molto vicini al precedente episodio Solo che nel precedente episodio avevo fretta Perché Ahmed mi stava aspettando da tanto tempo E doveva griffare Quindi non potevo farlo aspettare di continuo Poi c'erano anche i suoi amici che mi stavano aspettando Mi stavano tutti aspettando Quindi non potevo stare qui a divertirmi e a cercare il tesoro E mi sono detto Non c'è tempo Lo facciamo per il prossimo video Secondo me E da questa parte Sì infatti Guardate guardate Si sta spostando Finalmente Allora Da quel posto Ok da questa Da destra Siamo a posto Adesso dobbiamo semplicemente Addentrarci nella mappa Così riusciamo a trovare Questa bellissima isola Non vedo l'ora Spero di trovare dei diamanti Spero di trovare dei diamanti In quel tesoro pazzesco Perfetto Ora il puntino Doviamo semplicemente Ingrandirlo di più Wow Ma che cos'è questo Cosa Non ci credo Abbiamo trovato un'altra nave Abbandonata Wow Buttiamoci Buttiamoci Andiamo 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 No Aspettate Secondo me qui dentro Possiamo trovare un'altra mappa del tesoro Fantastico E questa mappa del tesoro Sarà più vicina Probabilmente Andiamo a vedere Andiamo a vedere Ma non è tipo la stessa nave Dell'altro video Sembra la stessa No no Questa è spaccata a metà Questa è spaccata a metà Come il titanico Ok questa Non è come quella dell'altro video Nell'altro video Avevamo trovato un'altra nave abbandonata Ed era come questa Simile Ma non è questa Perché ok Oh si Bellissimo Si Abbiamo trovato solo una mappa del tesoro Però altre ceste Con i tesori Qua non ci sta Perché la nave Si è spezzata a metà E i tesori Non ci sono più Ci sono No aspettate Ci sono forse Ci sono forse Si guardate quanti smeraldi Guardate quanto ferro E quanti smeraldi Adoro Adoro questi tesori Adoro questa cosa Che potete trovare Tesori Esplorare 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 E' la cosa più bella Che hanno aggiunto su minecraft Infatti Il potere esplorare di continuo E adesso il problema Il bello di minecraft prima Il brutto di minecraft prima Che non potevi esplorare di continuo Perché non c'era tanta roba da trovare A parte un mineshaft Il mineshaft non è che era così tanto divertente Adesso però puoi trovare le mappe del tesoro Trovare i tesori dovunque E questo Questo si che è veramente bello Questo si che rende minecraft veramente divertente Da esplorare E giocare di continuo Controlliamo un po' se siamo vicini A questo tesoro Oh si Siamo vicinissimi Siamo molto molto vicini a questo tesoro Allora vediamo In che direzione dobbiamo andare Dobbiamo andare in qualche posto Non voglio aprire il coso Delle coordinate Perché non voglio farvi vedere Le coordinate dove sto Perché non lo so Per sicurezza non voglio farvi vedere le coordinate Quindi devo cercare di capire da solo Dove devo andare Aspettate Andiamo da questa parte Non lo so Dobbiamo spostarci un po' Finchè non riusciamo a capire Dove dobbiamo andare Dobbiamo tipo andare a nord ovest E quindi forse da questa parte Riusciamo a spostare il pallino E comunque è molto molto vicino a questo tesoro Infatti il pallino è molto molto grosso Oh Finalmente ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Avete visto? Ok 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 Siamo vicini Siamo vicinissimi Siamo vicini Andiamo a ovest Andiamo a ovest Siamo molto vicini a questo tesoro Oddio aspettate No Non mi dire che anche lui è sott'acqua Dovremmo scavare a caso Aspettate Facciamo una cosa Questa volta ci prepariamo una bella pala La pala ci serve per forza Non è possibile che io vada a caccia dei tesori E non ho una pala per scavare E trovare il forziere E come è possibile? Come facciamo? Con il piccolo non possiamo Adesso ci facciamo una bella crafting table E cerchiamo subito di farci una bella pala Che ci serve per forza Senza la pala non possiamo fare niente Ok Non faremo una pala No aspettate Posso fare una pala di ferro Giusto Che cosa dico? Che cosa dico? Posso farmi una fantastica pala di ferro Ok Adesso siamo pronti per aprire Per trovare il forziere nascosto E sperare di trovare dei diamanti Speriamo di trovare dei diamanti Ci siamo Siamo molto molto vicini La pala di ferro Ce l'abbiamo pronta E il tesoro È molto molto vicino Mamma mia Non vedono di trovare Di aprire questo bel forziere E di vedere che tesoro Riusciamo a trovare oggi In questo episodio Mamma mia Non vedo l'ora Sì Siamo vicini Siamo vicini Deve essere qui No aspettate È davanti a quest'isola qua Che sembra tanto L'altra cosa Non ci credo Non ci credo Ma non è possibile No vabbè Ma è la stessa cesta È la stessa mappa No è impossibile Abbiamo trovato due mappe Uguali Non è quella dell'altro episodio Perché quella dell'altro episodio Guardate È qui dentro È qui dentro Eccola È questa È questa qui Non ci credo Abbiamo trovato due mappe uguali No No aspettate Ma cos'è questo troll Che cos'è questo troll No Sono stato trollato Ma non è possibile Aspettate Spero Che sia spawnata Un'altra cesta Allora Vediamo Vediamo se è spawnata Un'altra cesta Controlliamo subito Perché non è possibile Allora Qui c'è la cesta Che abbiamo aperto Nel precedente episodio Ora Vediamo se qui Ne dintorni C'è un'altra cesta Che possiamo trovare Non so Non è possibile Cioè Non ci credo Che abbiamo trovato Due mappe uguali Ma che sfortuna Non potevo trovare Un'altra mappa Di un altro tesoro No Abbiamo trovato La stessa mappa Dello stesso tesoro Ma che cacchio Eh no Niente A quanto pare Non c'è nessun tesoro Nascosto Abbiamo trovato La stessa mappa Dello stesso tesoro Wow Non ci posso credere Non ci posso credere Ma è successo Facciamo una cosa Ma pensiamo A questo tesoro Dell'iscritto Che sicuramente Questo tesoro Dell'iscritto Lo troveremo Beh Non dobbiamo esserne sicuri Perché spero Spero che non l'abbia Già trovato qualcun altro Perché se l'ha trovato Già qualcun altro Siamo veramente Veramente fregati Uhuhuh Finalmente ci siamo Mamma mia Fantastico Abbiamo trovato Questo benedetto tesoro Quanto ci è voluto Ma quanto è bello Il lago di lava Nella mappa È fantastico Finalmente Abbiamo trovato Anche questo tesoro Bellissimo Non è detto Stiamo zitti Perché se qualcun altro Ha trovato la mia stessa mappa Del tesoro Ma è andato prima di me Da prendere il tesoro Noi il tesoro Non lo troviamo Giustamente Perché non ci sono tesori Infiniti Tesoro Su una casa Allora Vediamo dov'è il tesoro Sì È questa Isola È questa È questa Cosa c'è In basso Allora da quella parte C'è una nave abbandonata Probabilmente C'è una nave abbandonata Forse riusciamo a trovare Un altro tesoro Perfetto Uccidiamo Questo Serpente Sì sì Questo serpente Uccidiamo questo cojo E Oddio Scappiamo Oh mio dio Scappiamo Che c'è un creeper In avvicinamento Allora Cerchiamo di Capire se Qua c'è un bel tesoro Comunque qua sembra che nessuno abbia scavato Quindi sicuramente riusciamo a trovare il tesoro Il creeper non si avvicina Lo spero tanto Allora cerchiamo di scavare Uh che bello È qui, è qui È qui da Non ci credo Ma non ci credo No Chi c'è? È un pesce È passato qualcuno Chi c'è, chi c'è? C'è qualcuno Ci deve essere qualcuno qua di intorni Non è possibile Hanno aperto Non è possibile Hanno trovato la mia stessa mappa del tesoro No, mi hanno lasciato solo un pesce cotto Che sfortuna che è questo episodio Tutti i tesori non li sto trovando Oh, aiuto Che succede? Che succede? Aiuto Wow Cos'è quello? Oddio Abbiamo trovato qualcosa Oh mio Dio Ma che cosa stavo esplorando Siamo arrivati in questo bioma strano ghiacciato Ho sentito tipo fare il gargarismi Semplicemente quando andate in bagno Fate il gargarismi Ok, vi pulite la bocca Perfetto E poi ho visto che mi sono avvicinati a queste cose qua Stavo rispondendo a Whatsapp a un mio amico E quindi è un pazzesco Non me ne sono neanche accorto Adesso abbiamo trovato un bel posto da esplorare Fantastico Speriamo di trovare qualcosa qua di interessante Non so cosa possiamo trovare qui Però vedo che c'è una bella barca capovolta E qua ci sono tanti ghiaccioli Probabilmente quello del Titanic Che è stato affondato dai ghiaccioli Oh sì Quindi sicuramente troviamo qualcosa di interessante Però vedo che qua sotto C'è qualcos'altro Ci sono delle ceste Andiamo Andiamo Rischiamo Dan 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 Rischiamo Rischiamo Vediamo se c'è qualcosa Ok, che schifo Che schifo Cos'è questa roba? Che bello Che bello Che bello Il costo del nether Allora qua dobbiamo cercare di capire Se c'è qualcosa di nascosto Bello Una cesta Oh lingotti Oh Nuggets d'ori Ok d'oro Ok stiamo morendo Stiamo morendo Usciamo Wow Usciamo 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 Che sta succedendo? Perché non esco? Ok ok Non stavo uscendo Non volevo più uscire Mi sono spaventato Usciamo due secondi Che riprendiamo fiato E ammazziamo anche questi zombie Abbiamo una sharpness 5 Con fire aspect Mamma mia Che cos'è? Un film per zombie C'è tipo un'orda di zombie Che mi sta seguendo Ma che cosa volete? Cosa volete? Oh lingotto d'oro Che bello Me lo prendo Me lo prendo Sì sì Ammazziamo questi zombie Che cacchio Guardate Sono Wow Sono tantissimi Però tanto di one shot Pazzesco Allora Adesso scendiamo di nuovo Che possiamo scendere Secondo me Scendiamo subito 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 Impicchiata E vediamo se ci sono delle ceste Che possiamo trovare Ok In questa non c'è niente Qua C'è qualcosa Mamma mia Faccio fatica a nuotare Non so il perché Sinceramente Faccio fatica a nuotare Ogni volta Continua a cambiare E cambiare Prima si sdraia Poi si alza Poi si sdraia Poi si alza Non ci sto capendo niente Wow Wow Qua c'è qualcosa No 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 Risperiamo 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 Ok Qua si può respirare Sì No Si può respirare qui Perfetto Siamo in un mineshaft Wow Siamo in un mineshaft Devo capire però Se qua c'è qualcosa Di interessante Dobbiamo salire qui sopra Stogliere questa Questa gravel E vedere se in questa cesta C'è qualcosa di interessante Non lo so Ci sono i creeper subacquei Non credo Per fortuna Wow Corso vanishing Cos'è sta roba Non ne ho idea Però ne lo prendiamo Perché è un enchant Colorato di rosso Quindi potrebbe essere Qualcosa di pazzesco Non lo conosco Questo enchant Adesso andiamo Nella barca del capovolta E vediamo se riusciamo A trovare un bel tesoro Nascosto Scusate Una bella mappa Del tesoro Sì Una bella mappa Del tesoro Trovata Perfetto Ora vediamo se c'è anche La cesta del tesoro Di questa nave Allora la nave è capovolta Quindi al contrario Dobbiamo andare da questa parte Per l'altra cesta O forse non c'è In questo coso Scendiamo qui sotto Qui c'è qualcosa Sì è qui È qui È qui Deve essere qua E deve essere lì Ah deve essere lì Usciamo 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 No Essi 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 Wow Mamma mia Stavo per morire Vi ricordo che sto portando con me Tutta la roba Tutti i minerali preziosi Quindi ho paura di morire Ok torniamo giù Torniamo di nuovo giù E vediamo se c'è quella Quella cesta Del tesoro Perché la nave è capovolta Quindi devo orientarmi Infatti Eccola qua È proprio qui Sì Tutti i smeraldi E tutto ferro Mamma mia Perfetto Fantastico E abbiamo trovato Anche una Una bella mappa Del tesoro Ed è Vicino Vicinissimo Andiamo subito A prendere questo tesoro Spero che questo tesoro Non l'abbia preso nessuno Wow Un orso polare Ma che bello E c'è anche il suo figlio C'è il piccolino L'orso polare E il suo bambino Perfetto Adesso Dobbiamo andare Verso questo tesoro Sperando di trovare Qualcosa di interessante Se vorreste nel prossimo episodio Vedermi Grifare Una bella base Raggiungiamo i 5.000 Mi piace E iscrivetevi Al canale Premendo il tasto Rosso iscriviti Per adesso Seguiamo questa bella mappa del tesoro Oh Si sta spostando Finalmente Si sta spostando il pallino Alleluia Ci siamo Secondo me Fra un po' Ci siamo vicini Ci avviciniamo Al tesoro nascosto Io secondo me Io penso Che secondo me Questo tesoro Non l'ha trovato Nessuno Si c'è l'acqua Credo che ci sia l'acqua Si ecco Ci siamo Siamo molto Molto vicini Ma quanto mi sto divertendo A giocare in questo modo Cioè che devo cercare I tesori nascosti Con le mappe del tesoro Ma che figata Questa cosa qua È una cosa bellissima Che hanno aggiunto Su minecraft Tanto tempo fa Lo so Ma io l'ho appena scoperto Ho appena capito Veramente Il funzionamento Di queste mappe del tesoro E wow È qualcosa di veramente Divertente Spettacolare Mi sa che dobbiamo andare Da questa parte Allora Qua ci stiamo spostando Sempre a sinistra Ma dobbiamo andare Tipo all'interno Mi sa che dobbiamo Avvicinarci al bioma Del ghiaccio Perché secondo me Il tesoro si trova lì Nel bioma Del ghiaccio Eccoci Sì finalmente Finalmente Oh alleluia L'abbiamo trovato L'abbiamo trovato Probabilmente il tesoro Spero che non l'abbia preso nessuno Lo spero tanto Allora Si trova sulla costa Sulla costa Dove? Sinistra Destra Da questa parte Da questa parte Veramente magnifico Allora Dobbiamo andare a sud Ecco Finalmente la freccia si vede Che cacchio E' tipo tre ore Che sto cercando di capire Dov'è la freccia Qua c'è tipo Della cobblestone Cioè scusate C'è la sandstone Non è che tipo Dietto questo muro Controlliamo No Non è dietto questo muro Però Scaviamo subito tutto E qua c'è una bella caverna Solo che Non penso che sia questa parte Il tesoro Adesso cerchiamo di capire Qua Oddio C'è un'altra nave Non l'avevo vista Non l'avevo vista Perfetto Adesso Cerchiamo di capire subito Dov'è questo tesoro Prendiamo la pala E scaviamo Ok Scaviamo qui E cerchiamo di capire Dove ci trova questo bel tesoro Dove ti trovi tesoro? Tesoro Sono a casa Si Eccolo 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 L'abbiamo trovato Wow Ok Tanti smeraldi Niente diamanti Però abbiamo trovato Tanto oro Tanto ferro Tanti smeraldi Un altro Heart of the sea Che non so cosa serva E' fantastico E' altro Cookhead Pesce Mi farò uno stack Di cookhead pesce Se continuo con queste cacce Al tesoro Ah visto che siamo già qui E mi faccio una piccola Breve sosta In quella bella nave Abbandonata E vediamo se c'è un'altra Bella mappa del tesoro Ormai Ormai che ci siamo qua Facciamo un'ultima caccia al tesoro Perché mi sto divertendo Tantissimo E' una figata pazzesca E' troppo divertente E' troppo divertente Sicuramente ci sarà qua Una bella Un bel tesoro Sicuramente qua C'è un bel tesoro Sicuramente Eccolo qua Qua c'è il tesoro Uuuu tanto oro Tanto ferro Tanto smeraldo Mamma mia Siamo arrivati a 28 smeraldi 28 Pazzesco Nemmeno in caverna Ne riesco a trovare così tanti Wow Sono tantissimi Dov'è Dov'è la mappa del tesoro? Cerchiamo di trovare Subito la mappa del tesoro E usciamo Cos'è sta roba? No 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 Ciao non ho il tempo di esplorare Che stiamo soffocando Allora il tesoro Facciamo una cosa Dobbiamo mettere in ordine Il nostro inventario Che è veramente Un macello Questo inventario Adesso qua Mettiamo quest'altra mappa Che ormai abbiamo Già esplorato Adesso la prossima Non ci credo Abbiamo trovato Di nuovo Abbiamo di nuovo Trovato Due mappe Che ci portano Allo stesso tesoro Ma non è possibile No Non è giusto Volevo divertirmi ancora Con la caccia del tesoro Non ci credo Che peccato Niente Spero che questo episodio Dell'esplorazione Qui nel Gryffing Vanilla Vi sia piaciuto Se vorreste vedere Altre Altre video Dove esploriamo E troviamo Altri tesori Raggiungiamo I 5.000 mi piace Per un prossimo Gryffing Iscrivetevi al canale Premendo il tasto Lo s'iscriviti E ci vediamo A un prossimo video Ciao ciao